Musica Presentato oggi a Palazzo dei Nobili il progetto Catanzaro città amica delle persone affette da demenze progetto voluto dall'associazione Raggi Onlus in collaborazione con il comune di Catanzaro da sottolineare che Catanzaro è il primo centro storico riconosciuto come città amica delle demenze Assolutamente sì, noi grazie ad una delibera che è stata realizzata dalla comune di Catanzaro nel mese di marzo abbiamo attivato con la federazione Alzheimer Italia questa procedura affinché Catanzaro avesse il riconoscimento proprio di comunità amica per le demenze sono 24 in tutta Italia le comunità amiche per le demenze riconosciute dalla federazione Alzheimer Italia e questo ci fa capire come la malattia di Alzheimer è una malattia così come le altre demenze sono delle malattie che pur essendo delle malattie hanno il diritto di vivere e di spendersi all'interno di una comunità all'interno di una società che li deve accettare, li deve accogliere, li deve comunque riconoscere come persone e non come ammalati con una malattia che progressivamente spegne i loro neuroni ma non spegne assolutamente la loro vita quindi il lavoro che abbiamo già iniziato noi a fare su Catanzaro è molto lungo a parte dalla 2008 quindi a distanza possiamo dire di 11 anni abbiamo raggiunto questo obiettivo che non è assolutamente un punto di fine, non è una fine ma è un inizio perché adesso ci aspetta tutto il lavoro che noi dobbiamo fare comunque all'interno del centro storico quindi con le scuole che abbiamo già iniziato a fare infatti nel comitato promotore ci sono già delle scuole ma con le scuole, con le farmacie nel comitato promotore abbiamo l'Agifar con i medici nel comitato promotore abbiamo l'Associazione Nazionale dei Geriatri Exospedalieri quindi questo comitato promotore, questa rete che si deve espandere sempre di più una rete come dico io che non deve essere a maglie larghe ma deve essere a maglie piccole, a maglie fitte proprio perché le famiglie non debbano essere più lasciate sole e le persone con le demenze debbano essere accettate, contenute e rispettate Ci sono delle iniziative, delle date specifiche che possiamo comunicare già? Date specifiche, guarda, noi stiamo girando tutta Italia perché i nostri Epidemencia Days che è una nostra specificità che portiamo avanti ormai da 5 anni quest'anno sarà un po' distribuita in tutta Italia quindi le tappe sono sempre tante sicuramente nel mese di giugno e nel mese di luglio inizieremo i nostri processi formativi con i vari commercianti abbiamo anche la possibilità di avere degli incontri proprio specifici principalmente nel centro storico di cui poi naturalmente daremo notizie Sì, buongiorno, sono qui in rappresentanza del Comune di Catanzaro sono molto orgogliosa di poter partecipare a questo progetto che non solo dal punto di vista sanitario ma anche dal punto di vista sociale la demenza si sposta dagli ospedali, dalle strutture sanitarie verso il territorio l'invito che io vorrei fare insieme a questo importante progetto è quello di interventi mirati fondati sulla proprietà, la disponibilità e la sostenibilità affinché possa essere avviato un percorso che riguarda l'identità della persona in modo globale sostenendo questo progetto affinché comunque anche i cittadini sono consapevoli che tutte queste persone affette da demenza e non solo possono essere aiutate tra virgolette agevolate dalle varie strutture territoriali In cosa consisterà nella pratica questo progetto che viene presentato oggi? Questo progetto che è stato già avviato dalla Presidente della RAGI, la dottoressa Elena Sodano è un importante progetto perché coinvolge appunto l'ammalato non solo dal punto di vista sanitario quindi dalla salute mentale ma anche dalla salute fisica in modo tale di far sì che comunque venga facilitata la psicomotricità, la deambulazione lo stato emotivo del paziente che spesso e volentieri viene tralasciato e quindi ne conseguo che alla fine troveremo a curare soltanto una patologia organica ma non l'emotività e la psicologia che è importante in un paziente affetto da tale patologia e non solo Tu hai delle competenze anche ospedaliere per il tuo mestiere La demenza come viene percepita e come viene curata oggi? Quindi quale importanza può dare proprio a chi affetta da demenza un progetto del genere? È inclusivo sicuramente? Sì perché dal punto di vista sanitario al di là dei farmaci che possono curare la malattia organica non c'è stato modo di dare spazio a questo tipo di patologia e di essere trattati in maniera diversa Ritorno a dire che la dottoressa Sodano ha dato un importante contributo non solo per Cicala che è partito come primo centro di riconoscimento ma anche oggi Catanzaro che è una città di capoluogo quindi è molto importante che i cittadini si rendano consapevoli di questa malattia che non è soltanto una malattia da trattare in ambito ripeto sanitario ma che deve essere collettivamente deve coinvolgere un po' tutti affinché questi pazienti possono essere abbracciati non solo dalla sola famiglia ma anche dall'intera collettività Grazie Grazie